Fari puntati sulla difesa, il Pescara vuole cambiare in parte registro e affidare a Zeman giocatori in grado di interpretare al meglio i suoi principi di gioco per quanto quella difensiva non sia la fase prediletta del Boemo. Tra i vecchietti della retrovia Zeman vorrebbe affidarsi all'esperienza e alla leadership di Ugo Campagnaro il cui contratto è scaduto e che il presidente Sebastiani è pronto a rinnovare purché il compenso sia dipendente dal numero di presenze che l'argentino riuscirà a garantire. Non rientrano nei piani invece Andrea Coda e Guglielmo Stendardo per cui i DS Leone Pavone cercheranno delle soluzioni nel corso dell'estate anche se piazzarli non sarà facile. Il rinnovamento passa da alcuni elementi giovani e altri più esperti della categoria. Tra questi ultimi rientra il profilo di Biagio Meccariello della Ternana, centrale cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni. Tra i giovani c'è Alessandro Bastoni prodotto del fervido vivaio dell'Atalanta. Classe 99 l'entourage del difensore ha già mostrato credimento verso Zeman e la piazza pescarese e l'Atalanta potrebbe chiudere un'altra operazione di prestito dopo quelle pressoché definite degli attaccanti Latte Latte e Capone. Se ne riparlerà. Ieri i dirigenti del Delfino hanno avuto anche dei contatti con la Fiorentina per il 22enne croato Riccardo Bagadur reduce dai prestiti a Salernitane Benevento ma la pista è fredda. Quelle calde sono sempre a tinte nerazzurre. Atalanta sì ma anche Inter. Nell'operazione che sta portando Mamadou Coulibari al club milanese finisce anche il centrocampista bianca-azzurro classe 2000 Marco Pompetti, prospetto di cui si dice un gran bene. Come detto percorso opposto per i nerazzurri Andrea Palazzi e Marco Carraro e con il Delfino che non dispera di poter arrivare anche ad altri due primavera o uno dei due, Valietti e Vanoisden. E gli intrecci nerazzurri non sono finiti qui. Come specificato ieri Gianluca Caprari può finire la Sampdoria nell'ambito dell'operazione che porterà il difensore Blucerchietto Scrignar all'Inter. Se Caprari dovesse essere ceduto a titolo definitivo il 50% del prezzo del trasferimento finirà nelle casse del Pescara. Con lo stesso principio il 50% del prezzo della cessione eventuale di Cristiano Biraghi finirà nelle casse interiste. Sempre sul fronte cessioni si registra un sondaggio del Carpi per il terzino Davide Vittorini mentre da ieri sera è ufficiale il mancato esercizio del diritto di riscatto del Verona sul centravanti Simone Andrea Gans. L'operazione con la Juventus per l'arrivo del figlio d'arte sembra oramai in discesa. Infine beffa al fotofinish per l'ex tecnico del Pescara Massimo Oddo dato per vicinissimo alla panchina del Palermo. Stamani l'annuncio ufficiale che il neo allenatore rosanero sarà l'ex pordenone Bruno Tedino. Ufficiale anche il neo DS dei siciliani Fabio Lupo che si metterà definitivamente alle spalle la breve e traumatica esperienza di Teramo della scorsa stagione.